Buongiorno a tutti lettrici e lettori bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video oggi dopo tantissimo tempo torno a girare un wrap up. L'ultimo wrap up pubblicato sul canale risale al mese di marzo e quindi abbiamo in arretrato i mesi di aprile maggio giugno ma niente paura questo non dovrebbe essere un video eccessivamente corposo perché di fatto sorvolerò salterò a pie pari i libri dello strega quindi approfondirò vi parlerò degli altri titoli letti in questi mesi e di cui non vi ho mai parlato qui sul canale. Chi mi segue da tempo che ha frequentato il canale negli ultime settimane sa già di cosa sto parlando mentre fatemi fare qualche breve premessa per chi capita per la prima volta oggi su questi schermi. Innanzitutto benvenuti su iLibrary io sono Alessia faccio l'insegnante e abito in provincia di Bergamo in questo piccolo spazietto parliamo di libri. Anche quest'anno come l'anno scorso ho deciso di leggere tutti e sottolineo tutti i 12 candidati al premio strega vale a dire il premio letterario più famoso e più prestigioso in Italia e li ho video recensiti tutti qui sul canale. Avendo già dedicato ampio spazio a questi 12 titoli quindi non li citerò nel video di oggi anche se effettivamente si tratta di libri che ho letto negli ultimi tre mesi ma se vi va di approfondire uno o qualcuno dei titoli in questione vi lascio la playlist premio strega linkata qui sopra nelle schede e anche qui sotto nell'infobox. Mi raccomando se volete sostenere il canale cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti e sempre qui sotto nell'info box trovate anche i link ai miei social e al mio blog ma veniamo noi oggi vi devo parlare di cinque libri e saranno principalmente libri per ragazzi. Questo perché durante le ultime settimane di scuola ho assegnato ad una delle mie classi dei libri da leggere a gruppi. Alcuni dei titoli scelti assegnati li avevo già letti altri no e di conseguenza prima di proporli li ho letti io in modo tale da verificare che fossero effettivamente meritevoli e poi per poter valutare il lavoro dei ragazzi con cognizione di causa. Ecco perché diversi dei titoli di cui vi parlerò oggi sono appunto libri per ragazzi cominciamo subito con il primo vale a dire o ma è storia di giudo di camorra di Luigi Garlando si tratta di un romanzo che ho letto in formato digitale il cui protagonista è un ragazzo un adolescente di 13 14 anni di nome Filippo nato e cresciuto a Scampia per lui non sembra ci siano molte possibilità se non quella di entrare a far parte di quello che lui definisce il sistema vale a dire se non entrare a far parte della camorra della criminalità organizzata ma un giorno lo zio bianco con la speranza di salvarlo da un futuro che ahimè sembra già scritto lo porta nella palestra di giudo di Gianni Maddaloni l'ambiente della palestra affascina immediatamente Filippo che spera di poter imparare a picchiare duro in modo tale da farsi valere tra le strade di Scampia ma l'ambiente della palestra è molto diverso da come Filippo se lo immagina infatti Filippo dovrà imparare la puntualità il rispetto delle regole rispetto dell'altro rispetto dell'avversario la lealtà e ad un certo punto dovrà fare una scelta continuare a far parte del sistema oppure scegliere di entrare ufficialmente a far parte del clan Maddaloni è un libro molto semplice dalla trama estremamente lineare ma allo stesso tempo avvingente coinvolgente troviamo ovviamente affrontato il tema della legalità della criminalità organizzata mescolato però ai temi cari al pubblico adolescente quindi i primi amori i primi batticuori l'amicizia la crescita e di conseguenza è un libro particolarmente adatto a dei giovani lettori io l'ho proposto ad una seconda superiore ma ricordate che io insegno in un istituto professionale e di conseguenza tendenzialmente i miei alunni non hanno un buon rapporto con i libri e con la lettura e spesso sono anche stranieri di conseguenza non posso osare troppo ma è un libro che si può proporre benissimo un romanzo che si può proporre benissimo anche alle scuole medie il secondo titolo di cui vi parlo oggi è Mio fratello rincorrere i dinosauri di Giacomo Mazzariol libro che avevo già leggiucchiato un po' a spizzichi e bocconi tempo fa ma che non avevo mai letto dall'inizio alla fine in questo romanzo l'autore Giacomo Mazzariol racconta la storia sua e del fratello Giovanni affetto da sindrome di Down quando i genitori annunciano a Giacomo l'arrivo di un fratellino Giacomo è felicissimo perché lui che ha due sorelle più grandi finalmente avrà un fratellino quindi non si sentirà più in minoranza e soprattutto avrà qualcuno in famiglia con cui giocare con cui fare la lotta con cui correre con cui divertirsi ma il tanto atteso fratellino Giovanni è un bambino speciale con i suoi tempi con le sue fragilità con le sue stravaganze Giacomo gli vuole un bene immenso ma Giacomo è anche un ragazzino che è in piena adolescenza che è quella fase della vita in cui della diversità e della fragilità tendenzialmente ci si vergogna questo romanzo quindi descrive il percorso di crescita e di maturazione di Giacomo che imparerà a non vergognarsi del fratello e ad amarlo incondizionatamente anche questo romanzo è adattissimo ad un pubblico giovane perché mescola al tema della disabilità della fragilità tematiche care all'adolescenza come nel caso del romanzo di prima la crescita i primi amori i primi batticuori è un romanzo scorrevolissimo semplicissimo romanzo adatto anche in questo caso dalle scuole medie in su ma che con la sua dolcezza con la sua tenerezza con la sua semplicità secondo me ha tanto da dire anche al pubblico adulto so che da questo libro è stato tratto anche un film che sicuramente i miei alunni hanno visto ma che io non ho ancora recuperato vi segnalo però che questo romanzo è disponibile anche in versione audiolibro su audible io in particolare ho ascoltato il romanzo anziché effettivamente leggerlo e il romanzo è letto da Giacomo Mazzaricol stesso quindi top andiamo con il terzo titolo Alice i giorni della droga si tratta del diario presumibilmente vero reale di un adolescente che è entrata nel tunnel della droga e il cui obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani a questa tematica e scoraggiare ovviamente l'uso di sostanze stupefacenti il libro è strutturato come un diario quindi è articolato in capitoli che a volte sono anche piuttosto brevi qualche riga mezza pagina in generale e ovviamente la storia è raccontata in prima persona dalla protagonista il nome della protagonista non viene mai citato non viene mai riportato mentre Alice il nome Alice che troviamo nel titolo fa riferimento all'Alice del paese delle meraviglie di Lewis Carroll la protagonista è la tipica ragazza di buona famiglia una ragazza tranquilla studiosa educata che è alle prese con le problematiche tipiche dell'adolescenza il padre insegna in università e accetta una cattedra lontano da casa e quindi la famiglia lo segue e si trasferisce in un'altra città la ragazza frequenta una nuova scuola e qui diciamo la sua timidezza il suo disagio il suo carattere introverso si accentuano in quanto la ragazza fatica ad inserirsi tra i suoi nuovi compagni durante l'estate però torna nella sua città natale e viene invitata ad una festa e durante questa festa le viene offerto un bicchiere con una bibita che contiene dell'LSD e quindi la ragazza per la prima volta praticamente inconsapevolmente prova la droga e fa il suo primo viaggio qui comincia il tunnel della dipendenza una dipendenza in cui la ragazza scivola quasi inconsapevolmente ma anche con estrema facilità ma da cui poi sarà molto difficile uscire anche questo romanzo è semplice scorrevole ma è forse più indicato per un pubblico più grandicello direi dalla prima seconda superiore in su questo romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1971 e di conseguenza è ambientato alla fine degli anni 60 quindi è chiaro che alcune dinamiche non sono più quelle di oggi ciò nonostante le tematiche che affronta sono universalmente valide quindi la difficoltà nell'accettare il proprio corpo la tendenza a vedersi brutte la difficoltà nel trovare amici sinceri il difficile rapporto con i genitori e poi ovviamente il problema della dipendenza come vi dicevo prima questo romanzo descrive molto bene la facilità con cui si può incappare nel problema della dipendenza e invece il percorso tutto in salita che deve fare chi ha intenzione di uscire da questo tunnel un romanzo che i ragazzi hanno apprezzato ne sono usciti anche degli interessanti spunti di riflessione e di conseguenza anche in questo caso consigliato. Quarto titolo di cui vi parlo oggi è Girls di Jessica Schiffauer lei è svedese quindi non ci provo neanche a pronunciare correttamente il suo cognome dunque questo libro non l'ho proposto in classe quindi chiariamo immediatamente le cose a scanso di equivoci è però un romanzo per ragazzi uno young adult che ho deciso di leggere perché mi sembrava affrontasse una tematica interessante mi sembrava che lo spunto di partenza fosse interessante in realtà non è andato esattamente così comunque adesso andiamo con ordine di che cosa parla Girls? Girls è la storia di tre ragazze di 13 14 anni che sono grandi amiche e che devono ancora sbocciare sono un po delle bambinone diciamo anzi le famiglie sono anche preoccupate perché sono ancora molto infantili sono ancora molto piccole poco donne secondo il loro punto di vista una di queste tre ragazze possiede una serra in cui coltiva dei fiori e periodicamente ordina dei semi da piantare in questa serra un giorno però riceve un seme misterioso un seme sconosciuto decide di piantarlo nella serra e immediatamente spunta un fiore bellissimo e dal profumo inebriante una sera le tre ragazze decidono di dolcificare la bibita che stanno bevendo o del tè non mi ricordo con il nettare di questo fiore e magicamente si trasformano in tre ragazzi quindi da tre ragazze a tre ragazzi e la magia dura fino a che le ragazze non si addormentano nel momento in cui si addormentano e poi si risvegliano si risvegliano di nuovo ragazze e a questo punto le tre ragazze hanno la possibilità di sperimentare come si vive nel corpo di un maschio ora di per sé l'idea è anche carina e poteva essere interessante ero consapevole di avventurarmi su un terreno accidentato infatti da brava risparmiatrice questo libro l'ho preso in prestito alla biblioteca e in effetti questo romanzo secondo me non è affatto riuscito ripeto poteva essere uno spunto interessante ma ahimè no il romanzo vorrebbe sottolineare la differenza di trattamento tra il corpo maschile e il corpo femminile il corpo maschile è visto come invincibile come bello forte mentre il corpo femminile è oggetto di scherno e soprattutto è osservato con desiderio con bramosia ed è continuamente violato le ragazze quindi che si trasformano in ragazzi hanno come vi dicevo prima la possibilità di vestire perlomeno durante la notte i panni di tre ragazzi cosa non ha funzionato cosa non funziona in questo romanzo innanzitutto secondo me le dinamiche che adolescenziali sono rappresentate in maniera troppo eccessiva troppo pesante mi spiego meglio nella scuola che frequentano le tre ragazze praticamente i ragazzi nonostante abbiano 13 14 anni prendono costantemente in giro le ragazze per le loro forme femminili anche con atteggiamenti abbastanza pesanti abbastanza volgari e soprattutto sembra che le ragazze quotidianamente siano isolate per i corridoi della scuola spogliate dai loro indumenti e palpeggiate senza consenso in sostanza tutti i maschi che frequentano la scuola di queste tre povere fanciulle sembrano essere futuri stupratori seriali ora non voglio dire che queste cose non succedano anzi lungi da me dire una cosa del genere ma non tutti gli adolescenti sono così non tutti i maschi sono così irrispettosi e quindi mi sembra che questo aspetto sia stato troppo esagerato per fare un esempio durante la lezione di ginnastica appunto i ragazzi e prendono continuamente in giro le ragazze in maniera anche molto volgare isolano una ragazza la spogliano e la palpeggiano e la narratrice dice il professore di educazione fisica vide tutto ma non fece nulla ma no, il professore di educazione fisica vide tutto prese i ragazzi, li portò dal preside li sospesero e convocarono i loro genitori insomma mi sembra tutto un po' irrealistico ecco poi ci sono altre cose che non quadrano tanto per esempio la ragazza che possiede la serra non ha più la madre e la madre è scomparsa in circostanze misteriose forse è in prigione forse è scappata con una donna non si sa, sa di fatto che questa ragazza vive con il padre alcolizzato che non è in grado neanche di fare la spesa tant'è che a fare la spesa ci va lei ad un certo punto ci va la ragazza ad un certo punto la nonna arriva appunto a casa di questa ragazza e le regala questa serra quindi si stabilisce da lei per il tempo di costruire la serra di piantare i primi fiori e poi se ne va ora dico se tu hai una nipotina una nipote in balia di un uomo alcolizzato cosa fai? vai costruisci la serra e poi te ne vai? no prova ad ottenerne l'affidamento fermati da lei fai modo di sostenerla in qualche modo invece no la nonna arriva costruisce la serra e poi se ne va comunque è tipico degli young adult descrivere gli adulti come se fossero dei celebrolesi e in effetti il modo in cui vengono rappresentati gli adulti per quanto mi riguarda mi aiuta a capire se ho tra le mani uno young adult di qualità di spessore o se invece una stupidaggine come in questo caso anche i genitori della narratrice tenete conto che la narratrice una volta assaggiato il nettare del fiore si trasforma tutte le notti in un ragazzo quindi trascorre tutte le notti fuori casa torna al mattino non dorme mai è uno straccio perché i suoi genitori non si rendono conto di nulla c'è questa scappa di casa tutte le notti e nessuno si accorge mai di niente vabbè poi la trama è una deriva totale nel senso che la protagonista che all'inizio del libro è una santarellina che praticamente gioca ancora con le bambole nel momento in cui si trasforma in un ragazzo diventa un delinquente un picchiatore si dà al furto ruba automobili da corsa deriva totale quindi no assolutamente no bocciato poteva starci l'idea era buona ma l'ultimo libro di cui vi parlo in questo video invece non è un libro per ragazzi e sto parlando della più amata di teresa ciabatti autrice che ho scoperto proprio grazie al premio strega di quest'anno teresa ciabatti era candidata al premio con sembrava bellezza ma al 2017 risale appunto il romanzo la più amata a sua volta candidato allo strega di quell'anno la più amata come del resto sembrava bellezza è un romanzo in cui l'autrice diciamo attinge alla propria biografia e ricostruisce la propria infanzia la storia della propria famiglia e in particolare il difficile rapporto con il padre il padre lorenzo ciabatti era primario dell'ospedale di orbetello era un uomo ricchissimo molto potente e soprattutto molto stimato teresa cresce all'ombra di lorenzo ciabatti e si sente la sua prediletta la sua amata è una bambina privilegiata vive in una casa con undici bagni possiede addirittura una piscina ha a disposizione i giocattoli più costosi che ci siano veste gli abiti più eleganti che ci siano e a scuola tutti la trattano con i guanti perché lei è la figlia di lorenzo ciabatti le cose cambiano con l'adolescenza quando teresa cresce e comincia ad avere un brutto rapporto con il proprio corpo comincia a vedere il padre sotto un'altra luce e comincia anche a cogliere alcune dinamiche del rapporto tra i suoi genitori la madre infatti era anche lei medico e poi stata praticamente costretta a lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli è poi caduta in depressione e i due si sono poi separati e proprio in occasione della separazione dei genitori viene fuori insomma che di tutte le proprietà di lorenzo ciabatti e di tutti i conti bancari a lui intestati non è rimasto nulla teresa quindi si sposta da orbetello a roma quindi dalla periferia alla città e viene calata in un ambiente che per lei è nuovo e che lei sente ostile povera è povera si sente povera ovviamente poi è tutto relativo in ogni caso deve fare i conti con il fatto di essere una ragazza qualunque e che dovrà faticare a costruire la propria identità e a trovare la propria dimensione il proprio posto nel mondo un percorso che nel momento in cui la voce narrante ci racconta la sua storia è ancora in divenire un romanzo molto intenso che è ben riuscito soprattutto nella prima parte molto bello sfaccettato il ritratto del padre così come anche della madre ma anche ma anche il ritratto che l'autrice fa di se stessa e del proprio essere una bambina viziata che crede che tutto le sia dovuto e che invece deve scontrarsi con una realtà che ovviamente non le corrisponde lo stile spezzato pungente come del resto anche in sembrava bellezza personalmente sono sempre dell'idea che Teresa ciabatti o la si ama o la si odia certo la più amata è un romanzo più completo rispetto a sembrava bellezza è un romanzo di maggiore spessore che offre sicuramente più spunti di riflessione e di conseguenza sta un gradino sopra rispetto a sembrava bellezza che è il suo ultimo romanzo se vi va di dare una chance a quest'autrice vi consiglio la più amata bene ragazzi il video di oggi finisce qui se avete letto i libri di cui vi ho parlato nel video ovviamente condividete la vostra opinione e condividete anche le vostre ultime letture premio strega a parte io vi mando un bacione un abbraccio e ovviamente vi do appuntamento al prossimo video ciao